Musica L'orvietana trova il colpaccio costringendo il Foligno alla prima sconfitta stagionale confermando che la cura a Fiorucci funziona Foligno che si presenta al Muzzi con assenze pesanti in difesa mancano i centrali di Ciccioli e Zanchi e l'esterno Pagliarini, ancora assente Francioni in attacco Nell'orvietana non ce la fa recuperare il portiere Sganappa anche se poi sarà costretto a stringere i denti ed entrare nella ripresa Orvietana che conferma il 4-3-3 quindi c'è Massetti in porta in avvio Frigli Canibaldi, Lispi, Mosconi in difesa Dida, Bernardini e Cotigni in mediana per cuo di Politorio e Missaglia davanti Nel Foligno Rovani a parare quindi Tempesta, Materazzi, Petterini e Pinsaglia nelle retrovie, Pettinelli, Gorini, Giabe Cucci a centro campo con vent'anni dietro Peluso e Ginai dopo 4 minuti, subito partita che si sblocca Polidori ruba palla a Materazzi si invola in area esce Rovani che sventa il tentativo di Polidori ma sulla ribattuta Dida in mezzo a due avversari riesce a girarsi e trovare lo spazio giusto per portare in vantaggio l'orvietana Foligno che ci mette un po' a reagire ma trova il pareggio al quindicesimo minuto vent'anni per Ginai in area che prova un sombrero e poi la palla finisce sulle mani di Frellicca per l'arbitro molto vicino all'azione è calcio di rigore non ci sono nemmeno troppe proteste sul dischetto si presenta Peluso che riporta tutto in parità è questo il momento migliore del Foligno che intorno alla mezz'ora del primo tempo trova una doppia occasione sull'asse Peluso-Ginai prima una punizione di Peluso dalla tre quarti campo raso terra che arriva in area a Ginai che prova la conclusione su Massetti in uscita ma termina a lato nemmeno un minuto dopo e Pettinelli serve Peluso che di nuovo vede Ginai in area da posizione vantaggiosissima però ancora Ginai non c'entra i pali e il primo tempo termina sull'1-1 nella ripresa dopo 5 minuti Dida scende sulla fascia destra palla in area e Missaglia prima al volo e poi sulla sua dopo ribattuta Polidori da posizione centrale hanno l'occasione buona per riportare avanti l'orvietana ma Roani para e sventa tutto intanto dicevamo che nell'orvietana fuori il portiere Massetti e rientra quello che era il titolare Sganappa il Foligno gioca meglio ma le occasioni ce l'ha tutta l'orvietana d'avvio ripresa il nono contropiede dei biancorossi oggi maglia grigia con paglia che arriva per cuoti in area esce Roani e il giovane attaccante orvietano trova la conclusione che sembra vincenti ma è il palo a negargli la gioia del gol il Foligno gioca l'orvietana spreca sembra questo il leitmotiv del secondo tempo tant'è che anche al ventesimo ancora i padroni di casa con Polidori si fanno pericolosi dopo una conclusione di Bernardini deviata Polidori riceve palla in area ma spara a lato ed ecco che allora arriva il gol alla mezz'ora poco prima della mezz'ora palla in area per Missaglia che serve liberissimo Liurni sul secondo palo per lui facile superare Roani con il suo diagonale e riportare in vantaggio l'orvietana come domenica scorsa Liurni era entrato ha segnato il gol vittoria a Città della Pieve dopo un minuto anche qui appena entrato due minuti dopo Liurni che aveva sostituito proprio Polidori trova il gol che dà i tre punti all'orvietana l'unica reazione del Foligno è al novantesimo su cross di Ginai palla ribattuta fuori dall'area dalla difesa Cascianelli prova la conclusione dalla distanza e para in tuffo sganappa finisce 2-1 per i biancorossi allora dopo 11 partite una sconfitta può essere anche fisiologica anche perché il Foligno si è presentato a Orvieto anche con parecchie assenze soprattutto in difesa pronti via subito un gol da recuperare siamo andati subito in svantaggio su un errore un infortunio del nostro giocatore però poi dopo la partita l'abbiamo recuperata e penso che il primo tempo abbiamo fatto anche molto meglio dell'orvietana poi il secondo tempo è stata una partita diciamo molto più equilibrata anche noi abbiamo avuto l'opportunità per far gol e non ci siamo riusciti loro hanno fatto gol quindi complimenti all'orvietana oggi interpretazione perfetta perché è stata l'agonismo in certi momenti la qualità tecnica in altri la resilienza perché gli ultimi 20 minuti non finivano mai eppure nonostante tutto si riusciva anche a ripartire crea problemi quindi ottimi per la seconda volta inserisci gli urni e dopo due minuti ti risolve la partita ma perché gli urni hanno una certa età come me quindi se gioca un quarto d'ora questo periodo diventa risolutore Grazie a tutti